Il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma del processo penale. Nel provvedimento c'è anche il Lodo Conte Bis sulla prescrizione, che prende il nome da Federico Conte, deputato di Leu. Con questa modifica, il decorso dei termini di prescrizione dopo il primo grado di giudizio continuerebbe a scorrere nei casi di assoluzione, mentre si bloccherebbe per i condannati. Italia Viva non ha partecipato alla riunione e il Governo appare sull'orlo della crisi. L'argomento giustizia è stato approfondito ieri pomeriggio a Campobasso. Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, Giuseppe De Rubertis, e il Presidente della Scuola Forense del Molise, Nicola Lucarelli, hanno invitato esponenti illustri. Il magistrato e consigliere della Corte d'Appello, Giovanni Fiorilli, il professor Andrea Bagnano Trione dell'Università del Molise, il magistrato Rinaldo D'Alonso del Tribunale di Larino, il Presidente della Camera Penale Distrittuale di Campobasso, Mariano Principe, ed il segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino, Michele Urbano. Dopo gli interventi tecnici, la conclusione politica è stata affidata all'Onorevole di Italia Viva, Roberto Giacchetti, accompagnato a Campobasso dalla rappresentante molisana in Parlamento del Partito Renziano, l'Onorevole Giuseppina Occhionero. Il Lodo Conti rende incostituzionale due volte un provvedimento, che era quello della sospensione della prescrizione, che già lo era in prima battuta. Perché due volte? Perché addirittura si fa una distinzione tra coloro che in primo grado sono giudicati colpevoli e coloro che sono giudicati innocenti, dimenticando che la nostra Costituzione dice che tutti sono da considerare non colpevoli, e quindi innocenti, fino al terzo grado di giudizio. Quindi qualunque intervento che apre una distinzione ovviamente è incostituzionale. D'altra parte con i provvedimenti del ministro Buonafede siamo abituati alla incostituzionalità. Solo 48 ore fa è stata dichiarata incostituzionale una parte importante dello spazio corrotti. La giustizia è malata da 30 anni, ha spiegato Giacchetti, con problemi strutturali che andrebbero affrontati insieme per dare una svolta al sistema, senza piantare bandierine. E proprio sulla giustizia, sulla prescrizione, il governo rischia di cadere con gli equilibri che viaggiano sul filo del rasoio. E se da un lato il premier Conte lancia messaggi inequivocabili, se si fanno gli sgambetti perdiamo la partita, dall'altro Italia Viva replica con fermezza. Noi questo governo lo abbiamo fatto, diciamo se non ci fosse stato Renzi non ci sarebbe stato Conte, per essere molto chiari, a fare il presidente del Consiglio. Noi abbiamo spiegato che non siamo sudditi, siamo alleati. Se qualcuno pensa di stare a scuola e mettere la gente dietro la lavagna deve fare un altro mestiere, non il presidente del Consiglio. Se il presidente del Consiglio fa il presidente del Consiglio, lo faccia soprattutto lavorando rapidamente sui tanti tavoli aperti che ci sono e che servono per far risalire la ghina a questo Paese che sta, come ci dicono tutti gli indicatori, precipitando. Grazie a tutti.